O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei fondamentalismi e nel terrorismo dei seguazi di qualche religione che profanano il nome di Dio e lo utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze. Una lunga preghiera rivolta alla Croce di Cristo, simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana, patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria. In questo modo Papa Francesco ha concluso la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. Nel buio della notte, rischiarato da migliaia di lumini, il Pontefice ha numerato le atrocità e le cose buone di cui è capace il cuore dell'uomo. Nel legno su cui è stato inchiodato il Figlio di Dio, infatti possiamo scorgere oggi i nostri fratelli bruciati vivi, sgozzati e decapitati con le spade barbariche e con il silenzio vigliacco. O i volti dei bambini, delle donne e delle persone, sfiniti e impauriti che sfuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano che la morte e tanti pilati con le mani lavate. Nella Croce di Cristo vediamo i potenti e i venditori di armi che alimentano le fornace della guerra con il sangue innocente dei fratelli. Vediamo il Mediterraneo, il mare Egeo, divenuti un insaziabile cimitero, immagine della nostra coscienza insensibile e narcotizzata. Ma l'immoralità e l'egoismo di tante persone non annullano l'operato di tante altre che fanno il bene senza cercare gli applausi o l'ammirazione degli altri. Le suore consacrati che abbandonano tutto per bendare nel silenzio evangelico le ferite della povertà e dell'ingiustizia o le famiglie che vivono con fedeltà e fecondità la loro vocazione matrimoniale. O Croce di Cristo, concluso Papa Vergoglio, insegnaci che l'apparente vittoria del male si dissipa davanti alla tomba vuota e di fronte alla certezza della risurrezione e dell'amore di Dio che nulla può sconfiggere o oscurare o indebolire.